Contribuire a migliorare l'accoglienza, il benessere e la qualità della cura dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali. È nata con questi obiettivi l'associazione Onlus Il Pellicano da un gruppo di professionisti ex dipendenti dell'Aus e personalità del mondo sanitario, imprenditoriale, universitario. Se in questi ultimi anni abbiamo assistito a un'enorme evoluzione tecnologica, non sempre questa è stata accompagnata o correlata con un'eguale attenzione verso i bisogni del cittadino ricoverato. Cosa intendo dal punto di vista umano? Non intendo solo la gentilezza doverosa degli operatori medici e infermieri e paramedici in genere. Ma soprattutto un'attenzione anche da un punto di vista architettonico, un'attenzione dal punto di vista dell'aspetto estetico degli ambienti in cui le persone devono abitare per il periodo di ricovero. Il primo progetto del Pellicano sarà quello di chiedere agli studenti delle scuole di primo e secondo grado, attraverso un concorso di idee, di suggerire colori, oggetti e arredi per migliorare l'ambiente ospedaliero. Un concorso attraverso il quale i bambini, i ragazzi ci diranno come vorrebbero un ospedale ideale per le loro esigenze. Quindi ritorniamo al discorso di dare grande importanza all'aspetto umano dell'assistenza. Grazie. 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 Grazie.